Che si fa? Che si fa? Allora, mi viene in mente una delle grandi, grandi, grandi obiezioni, no, ma difficoltà quando si parla anche di formazione, anche banalmente di leggere un libro o di prendersi un po' di tempo anche per programmare, progettare, tra le mille cose da fare e soprattutto il libro professionista in questo che fa tutto, no? Ho fatto l'omobanda, una delle più grandi obiezioni è io non ho tempo, non ho tempo a studiare, non ho tempo per me, non ho tempo per la famiglia, non ho tempo per i figli, cioè da qualche parte si va... Figurati se ho tempo di leggere, fare formazione, se avessi un euro per tutte le volte ho detto no, ma io non ho tempo, io sarei già milionaria e... E' anche comprensibile perché effettivamente uno fa tutto da solo o comunque anche se sono in due, tre, cioè noi abbiamo in Italia anche a causa di tante dinamiche delle aziende che sono sempre al limite, no? Nel senso tre persone a volte lavorano per quattro, non viceversa, però è uguale perché poi l'imprenditore rimane lì fino a sera, lavora, poi i giorni che ha liberi va dal commercialista, va a fare le commissioni e poi se si deve mettere anche a fare marketing e altre cose non lo può fare nell'orario di lavoro, lo deve trovare degli spazi, forse, e quindi a chi pensa non ho tempo, oppure come si possono aiutare queste persone, perché poi non è che dobbiamo dire non hai ragione, però ci sarà un modo per... il tempo è sempre quello, no? abbiamo tutto uguale il tempo, a disposizione, come lo usiamo forse... io conosco delle persone che riescono a fare, hanno tre, quattro, cinque aziende, riescono comunque a trovarsi il tempo da andare in vacanza, quindi la domanda è come si fa? Allora, domanda molto bella, ci vorrebbe forse un video molto lungo, cercherò di essere essenziale. faremo una diretta su questo, perché ci saranno anche delle domande che vengono fuori, però... Allora, essenzialmente ti dico che la causa, per il piccolo, quindi quella persona che è sola, sola con uno, sola con due persone, libero professionista, ok? La causa del non ho tempo, c'è una causa fisiologica, ovvero noi siamo tecnici della nostra materia, ma dobbiamo essere anche manager, quindi organizzare, fare strategia e quant'altro, e dobbiamo essere anche imprenditori, cioè vedere oltre, no? Creare, come se io volessi creare un franchising della consulenza che faccio io, quella è un'attività imprenditoriale, richiede un certo tipo di attività. La parte manageriale è più organizzativa, strategica, in altri video abbiamo parlato di cruscotti, guardare i conti, quello è tutto management, gestione. E poi c'è finalmente la parte tecnica, quella che so fare, quella che mi piace fare. Allora, il titolare delle piccole attività, nel 98% dei casi, è il tecnico. Nasce come tecnico, ha aperto l'attività perché era un tecnico di quel settore, di quel prodotto, di quel servizio, ma non ha mai sviluppato capacità di organizzazione e management, tantomeno capacità imprenditoriali. Quindi si ritrova oggi a competere su un mercato che richiede questi tre ruoli e non ce la fa. Perché è tutto nel tecnico, ok? Quindi una ragione per la quale una persona non ha tempo è perché fa solo il tecnico, e quindi è in questa ruota del criceto e non si preoccupa di creare altre situazioni, facendo un po' il manager e un po' l'imprenditore. Poi, è ovvio che è una grande balla il non ho tempo. Cioè, il non ho tempo, quando le persone a me mi dicono non ho tempo, faccio delle domande per capire un po' meglio cosa intendono, e si traduce spessissimo in non hanno voglia. Quindi c'è una mancanza di convinzione a monte, c'è una mancanza di determinazione a monte, c'è una mancanza di motivazione a monte. Non hanno voglia, non hanno voglia. Di conseguenza, se non hai voglia, non sei veramente affamato di far accadere una determinata cosa, e ci sono i figli, e le moglie, e i mariti, e la casa, e i familiari, eccetera, e non c'è il tempo, non c'è. E quindi uno bisogna che si faccia delle domande, no? Cioè, il tempo... Noi, quando abbiamo dormito sei ore, a livello biologico, siamo a posto. Quindi ne rimangono tantissime. Certo. Per fare tante cose. Però tutto è collegato a chi vuoi essere, cosa vuoi fare, della tua vita, come progetto, della tua attività, in maniera più specifica. Una volta che ti hai messo a posto qui, e si ritorna al concetto di sognare, che abbiamo menzionato in un altro video, se te sei collegato a un grande sogno, una grande visione, dormi anche cinque di ore. Certo. Magari rinunci a due ore di cazzeggio sul telefonino. Magari non ti guardi otto episodi su Netflix, te ne guardi uno e mezzo. Magari ti trovi un collaboratore che ti toglie tutta quella manovalanza tecnica che puoi delegare, e tu cominci a far crescere. Però a parte... Cioè, quando la gente mi dice non ho tempo, sembra che sia una questione, diciamo, di numeri, no? Perché ci sono 24 ore. Guarda, c'è una persona con cui parlavo, che gli dissi, guarda, ma tu... Avevo un piccolo studio, fotografico tra l'altro, e gli dissi, guarda, ma tu fai tutto da sola, ma non puoi, eh, ma non trovo... Perché cercano uno che faccia il lavoro a posto loro, no? Potenzialmente. O un dipendente. E io gli dissi, ma inizia dalle piccole cose. Inizia a prendere, esempio, la donna delle pulizie che ti mette in ordine tutto la sera prima, il giorno dopo arrivi e non devi farlo tu. Quanto tempo risparmi? Due ore al giorno. Un'ora al giorno. Bene, cinque giorni sono cinque ore. In un mese sono venti ore. Il punto è che l'ha presa ed era di nuovo, non ho tempo. E quelle venti ore dove sono finite? Quelle ore che hai recuperato, che cosa hai fatto? Sei stato un'ora in più sui social, magari. Perché anche questo è una mancanza di consapevolezza. Esistono delle app che ti permettono di vedere quanto stai sul telefono o quanto stai sul pc. Ed è importante questo, perché non ce ne rendiamo conto a volte. E se ci si allarga il tempo libero, allarghiamo quelle cose inutili a volte, invece di metterci quelle che ci mancano. Ma alla base è la mancanza di visione. Eh certo, ma perché vai a far quello? Perché non hai... Perché mi sei liberato, e ora che fa... Lo riempio con delle robe automatiche. Automatiche. E quindi bisogna veramente... Quindi c'è una gestione del tempo matematica, ci facciamo un video, una diretta, e vi diciamo i trucchi della gestione del tempo. Tecnici, proprio matematici. Ma il tempo è collegato a il sogno, la visione che voi avete per la vostra vita e per la vostra attività. Se non c'è quella... Sì, prima quello e poi dopo anche praticamente come. Come. Perché il come è altrettanto importante. Io ad esempio in uno di quelli che... A volte ci cado ancora, che ho... Che qui si potrebbe fare anche un indovinello. Se ho l'agenda vuota, ho più tempo o meno tempo? Se ho l'agenda vuota, alla fine ho meno tempo. Perché? Perché non faccio niente. Se io ho l'agenda piena, quei dieci minuti che io devo passare con l'analisa, e gli altri dieci minuti con un altro, non c'è dispersione. Non c'è perdita di tempo. Se l'agenda è vuota, diventano quelle giornate in cui non fai niente. Vai a braccio. E non fai niente. E arrivi in fondo e dici, oggi ho fatto niente. Se invece è l'agenda piena, riesci anche a farci entrare un caffè che non l'avevi scritto in un'agenda. No, no, è vero. Quello è giusto. Diciamo che la parte meccanica della gestione del tempo, che se poi vi interessa, ditecelo magari nei commenti, la possiamo vedere nel dettaglio. Io sono quasi autistica, sotto quell'aspetto lì sono un po' autistica. Quindi, anche di natura, premetto, poi magari chiudiamo, perché se no entriamo in un altro argomento, ma premetto che ci sono anche dei caratteri, delle personalità, che sono predisposte ad avere più padronanza del loro tempo e delle persone che sono più predisposte ad essere più dispersive. E non è né meglio né peggio, è che quelle predisposte per la dispersione fanno un po' più di fatica, ma sono molto più creative, hanno altri talenti, quelle molto molto organizzate, un po' autistiche come me, che hanno tutto inquadrato, sono molto brave a fare certe cose e fanno più fatica su altre. Quindi, l'importante è che uno si conosca e che una persona magari vada ad equilibrarsi. Se io sono, se lui è molto dispersivo, ma accanto a una persona molto, molto organizzata, ecco... non diventerò mai come quella, però sicuramente... Ecco che c'è... una botta gliela do. Esatto, va bene. Poi magari questo lo vediamo in maniera approfondita. Bene. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao.